Sono un amico di Sarah Connor. Mi hanno detto che è qui. Potrei vederla? No, non può. Sta facendo una deposizione. Dove sta? Senta, ci vorrà un bel pezzo. Se vuole aspettare c'è una panca laggiù. Aspetto fuori. Sparate! 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 E' un terrorismo. Resti qui. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.